quindi così vi dovrebbe già tornare perfetto non ci dovrebbero essere problemi a questo punto cominciamo a lavorare il dietro allora qui adesso avremo un ferro libero che era quello dove avevamo il davanti e adesso dobbiamo lavorare l'altra metà quindi noi abbiamo iniziato questo ferro abbiamo girato il lavoro mentre facevamo il rovescio quindi dovremmo ripartire dal rovescio quindi il primo giro sarà un rovescio infatti abbiamo già il ferro posizionato giusto in questo modo quindi prendiamo un nuovo filo e lavoriamo questo il dietro anche qui facciamo la prima maglia una maglia passata poi qui mi raccomando sempre di riconoscere le maglie anche qui vedete qui ci cerchiamo vedete questa è la colonnina con i dritti quindi questo sarà un dritto questo è un questo è un dritto quindi questo è un dritto la lavoriamo a dritto questo è un rovescio e così via quindi adesso io so che inizierò sempre con un dritto di dietro voi seconda come ci siete arrivati quindi io faccio un dritto e un rovescio sul rovescio del lavoro fino ad arrivare alla penultima maglia però io sul dietro ho voluto cambiare il motivo allora siccome sul davanti vedete ho fatto in modo che questo è il davanti sinistro vedete questo è quello che otteniamo alla fine del davanti sinistro l'ho fatto tutto con il motivo a dritto quindi sul dritto del lavoro il davanti destro lo faccio al contrario cioè con il rovescio sul fuori in modo che mi vengano diverse le due parti in modo da dare appunto un movimento a questa giacchina quando faccio il dietro quindi devo prepararmi questo lavoro e per prepararlo vedete io faccio una diagonale quindi a ogni giro che inizio a dritto faccio cambio il motivo sulle prime due maglie quindi in modo da avere a ogni giro due maglie in più ogni giro a dritto due maglie in più col motivo al contrario in modo che quando arrivo più o meno a metà lavoro io ho già tutto il lavoro a rovescio vedete finisco e quando poi recupererò che arriverò dal davanti io ho già tutto il motivo a rovescio quindi faccio questa piccola diagonale qua per farla io faccio così quindi lavoriamo tutta la manica il rovescio lo lavoriamo normalmente quindi un dritto e un rovescio fino ad arrivare alle due maglie insieme solite queste sono le due maglie insieme che lavoro sempre due maglie insieme a rovescio e ripasso il filo qua ok adesso io faccio questo il mio giro a dritto faccio un dritto e un rovescio in modo da iniziare il lavoro al contrario e metto il marco punti qua e poi continuo tutto a dritto fino all'ultima maglia lavoro tutto il ferro a dritto giro il lavoro sempre la mia prima è una maglia passata e faccio sempre un dritto e un rovescio come prima fino al marco punti quando siete al marco punti sia che ci arriviate con un dritto con un rovescio non cambia niente lo passiamo passiamo il marco punti e facciamo due dritti quindi in modo da avere il motivo a rovescio sul dritto del lavoro e poi le nostre sempre due maglie insieme a rovescio che rimettiamo sul ferro e giriamo il lavoro ok quindi qui adesso ci ricordiamo che iniziamo col motivo a rovescio quindi un dritto un rovescio tolgo il marco punti e faccio ancora un dritto e un rovescio e rimetto il marco punti e finisco tutto il giro a dritto e lavoro sempre il mio motivo a rovescio fino al marco punti lavoro tutto a dritto fino alla fine ovviamente fino alla maglia prima di quelle delle due maglie insieme che lavoro insieme a rovescio con un'altra maglia del corpo e rimetto sul ferro giro il lavoro quindi qui adesso faccio il mio motivo a rovescio quindi un dritto un rovescio un dritto e un rovescio ancora una volta tolgo il marco punti fino al marco punti faccio questo motivo e poi ancora uno e due maglie un dritto e un rovescio e rimetto il marco punti e continuo finisco il ferro tutto a dritto quindi facciamo questo fino ad arrivare ad avere tutto il motivo andiamo sempre avanti di due maglie finché non avremo completamente il motivo a rovescio sul sul dritto del lavoro e lavoreremo il dritto sul rovescio e continuiamo quindi a lavorare il dietro fino ad avere 31 maglie libere quindi questo è il fianco io conto 31 maglie dal fianco e metto una spillina quindi io continuo a lavorare in questo modo lasciando 31 maglie libere e arriverò quindi poi alla fine del dietro del collo dove mi sospenderò per iniziare a lavorare dal davanti ok quando abbiamo recuperato quindi l'ultima maglia prima di questa spilletta quindi qui ci rimarranno 31 maglie libere noi lavoriamo giriamo il lavoro e facciamo anche il giro a dritto fino al collo fino all'ultima maglia del collo e tagliamo il filo quindi adesso abbiamo lavorato quindi il dietro ve lo faccio vedere qui sulla misure reali quindi noi abbiamo lavorato adesso tutto il dietro fino a dove si separa si inizia il finisce il collo l'apertura del collo quindi dopo ci rimarrà da lavorare un altro pezzo della spalla però insieme al davanti in modo da non avere cusciture quindi noi arriviamo fino qua qui ci rimangano queste 31 maglie saranno libere quindi arriviamo fino qua e tagliamo il filo alla fine del dritto quindi il filo qua lo lasciamo qua e poi adesso e andremo a recuperare il davanti per lavorare quindi il davanti destro questo è il davanti quindi destro che abbiamo lasciato in sospeso prima che abbiamo tagliato il cavo adesso recupereremo queste maglie del bordo qua perché faremo continueremo questo bordo a maglia legaccio quindi prendiamo un filo ci riattacchiamo a quello che abbiamo tagliato sull'altro lato io ho lasciato i ferri staccati perché lavoro nel piccolo però voi avrete un ferro unico quindi avrete un cavo unico quindi queste io le continua a lavorare come le ho lavorate fino qua ora la prima vi si slargherà perché è una maglia passata potete anno darle insieme lavoriamo quindi poi a dritto tutte le altre maglie quindi le sei maglie lavoriamo solo le sei maglie del bordo quindi una maglia passata più cinque dritti che sono il nostro bordo 246 vedete devono essere queste sei maglie e lavoriamo solo queste quindi giriamo il lavoro filo verso di noi la prima maglia passata passiamo il filo dietro e cinque dritti giriamo il lavoro e così via quindi facciamo sempre in questo modo una maglia passata passiamo dietro il filo e cinque dritti così quindi lavoriamo così allora quanti giri dobbiamo fare allora vi spiego come fare voi vi eravate segnati la fine del corpo io ad esempio ho fatto 132 giri voi avrete ovviamente la vostra numerazione avete fatto 100 poi il davanti destro prima di sinistro scusate davanti sinistro prima di chiudere tutte le maglie avevamo 34 maglie quindi il davanti destro cioè questo questo che sto creando adesso questa colonnina qui che sto creando la dovrò fare di 68 giri scusate di 68 giri quindi io dovrò fare un giro a dritto un giro a rovescio un giro a dritto un giro a rovescio 68 in tutto 68 quindi saranno 34 giri a dritto e 34 a rovescio e quindi il contagiri lo rimetteremo a 132 più quindi quando iniziamo sarà il primo giro sarà il 133 e poi finiremo a 132 più 68 quindi 2 più 8 0 6 39 10 a 200 precisi quindi io finirò al giro numero 200 quindi questo è quello che dovete fare non è difficile ecco e questo ci servirà perché ovviamente andremo avanti con i nostri occhielli e gli occhielli quindi ogni 28 giri quindi l'avevamo fatte al giro 27 55 83 111 prima della fine del corpo perché siamo arrivati al 133 quindi ci mancava ancora un occhiello qua al 132 io ovviamente parlo del mio caso voi avrete altri numeri quindi io poi adesso che riparto quindi io riparto dal giro 133 perché al giro 139 dovrò fare un altro occhiello poi un altro ancora e l'ultimo vedete nel mio caso mi è venuto al giro 195 e va bene perché 5 giri prima della fine va bene il bottone in alto se vi dovesse venire molti giri sotto o ne fate due un pochino più vicini quindi questo invece che a 167 lo fate tipo a 150 e poi ne fate un altro oppure questo lo fate un po' più avanti quindi se voi dovete finire invece che a 195 se io invece che a 200 avessi dovuto finire a 210 questo invece che a 195 l'avrei fatto a 205 quindi avrei fatto 5 giri in più quindi oppure appunto vi aggiustate gli ultimi giri quindi dal momento in cui iniziate a fare questa parte qui aggiustatevi anche i giri per gli occhielli in modo che vi torni appunto l'ultimo occhiello in alto in modo da poter chiudere bene la giacchina subito sotto il collo quindi che siano 4 massimo 5 giri prima della fine della maglia infatti io invece che al 195 in realtà l'ho fatta al 197 in modo proprio che ho fatto solo 3 giri e poi ho chiuso il lavoro in modo che mi venga bene in alto non lo fate proprio sull'ultimo perché altrimenti vi si slargherà poi col peso della giacchina ma in questo modo se ci sono almeno 3 giri rimane più stabile quindi noi adesso facciamo questa colonnina vedete andando avanti e indietro così per il numero appunto di giri che abbiamo calcolato in questo modo eccoci qua quando avete fatto quindi tutti i giri che vi servono quindi avete fatto tutti i giri che appunto come vi ho spiegato prima chiudiamo queste maglie e le chiudiamo allo stesso modo la prima sarà una maglia passata poi lavoriamo un dritto e lo accavalliamo un dritto e lo accavalliamo un dritto fino all'ultima un dritto e lo accavalliamo allora questa maglia la teniamo adesso qui vedete queste magline orizzontali sono una ogni due giri ovviamente avendo le fatte passate di vivagno quindi le andiamo a recuperare quindi da qui entriamo vedete prendendo queste magline qui voi contatele per essere sicuri che devono essere poi lo stesso numero che abbiamo sull'altro lato se non abbiamo fatto errori quindi questa questa non la contate quindi una questa due questa vedete entrate sempre prendendo queste due magline vedete quando girate il lavoro per così si vedano bene queste v prendete bene le due magline entrate vedete sotto queste due magline prendete il filo che dietro e lo caricate sopra in modo da recuperare quindi il numero di maglie che avevamo sull'altro lato della nostra giacchina prima di chiuderle contatele e vi dovrebbero tornare appunto fino all'ultima da recuperare quindi quando le avete caricate tutte ne avrete una in più perché questa è quella che abbiamo preso dal dal bordo quindi sarà una in più allora questo qui noi abbiamo una maglia in più perché noi qui faremo degli aumenti poi quindi questo qui sarà il giro 1 del motivo quindi quando noi abbiamo recuperato tutte le maglie in pratica abbiamo già il giro 1 del motivo però adesso ripassiamo questa maglia appena caricata e la chiudiamo insieme sempre a dritto ritorto con la prima del corpo ecco quindi da qui inizieremo quindi a recuperare le maglie e questo è il nostro giro 1 adesso giriamo il lavoro e il giro 2 e tutti i giri pari li lavoreremo così una maglia passata che è questa e poi lavoreremo tutte le maglie a dritto perché adesso stiamo facendo il motivo a rovescio sul dritto del lavoro quindi lavoreremo semplicemente tutte le maglie a dritto fino alla fine del ferro quindi questo era il giro numero 2 e è uguale anche al giro numero 4 al giro numero 6 al giro numero 8 adesso facciamo il giro numero 3 che sarà semplicemente così una maglia passata e poi faremo un dritto e un rovescio questa è la nostra maglia doppia e la lavoreremo a dritto ritorto e la rimettiamo sopra ok questo è il giro numero 3 il giro numero 468 ovviamente tutti dritti fino alla fine del ferro ok quindi siamo sul dritto facciamo nuovamente un aumento prendiamo sempre da entrando da dietro questo filino e lo mettiamo sopra e lo lavoriamo sempre a dritto ritorto poi mi raccomando sempre di guardare il motivo perché anche qui ogni volta che ci sarà un aumento il motivo cambierà quindi l'ho andata a ricercare vedete qui dove abbiamo i due dritti è la colonna del dritto poi dopo li vedremo meglio e questa invece è una colonna del rovescio quindi questo è dritto questo è rovescio quindi dove avevamo il rovescio facciamo il rovescio dove abbiamo il dritto facciamo il dritto mi raccomando di non sbagliare questo punto l'ultima maglia ovviamente sarà il nostro dritto ritorto due maglie insieme a dritto ritorto e la rimettiamo sul ferro giriamo il lavoro è tutto a dritto il rovescio ok adesso abbiamo fatto il giro 6 e questo il giro numero 7 e fare lo faremo quindi senza l'aumento all'inizio ma dunque qui sempre ricordatevi di controllare andate pure un po più indietro che più facile da vedere vedete quando ne vedete una intera queste dritto rovescio dritto rovescio quindi questa iniziamo con rovescio e questa volta facciamo come facevamo dall'altra parte invece che due maglie insieme ne faremo tre insieme a dritto ritorto vedete in questo modo le prendiamo insieme tre in modo da fare una diminuzione anche sul sul corpo del davanti come abbiamo fatto dall'altra parte e poi facciamo sempre il giro numero 8 tutto al dritto quindi ripetiamo sempre questi otto giri li recupereremo cinque volte lo faremo per cinque volte come abbiamo fatto dall'altra parte e ci dovranno rimanere 31 maglie prima della fine del davanti ecco qua quindi questo sarà il nostro davanti quindi noi da qui lavoreremo sempre in questo modo per cinque volte fino ad arrivare a questo punto qua cioè dove finisce il collo avremo lavorato 25 maglie in totale e ci rimarranno 31 maglie libere verso il sotto della manica le stesse 31 che avevamo anche sul dietro quindi voi arrivate fino a qua e poi vi faccio vedere come riunire le due metà della giacchina della manica